La gestione dei social media è un'attività complessa che richiede tempo e organizzazione. La gestione ordinaria è fatta di task ripetitivi e disomogenei, come accedere a diversi social network e account, monitorare le conversazioni e interagire, creare contenuti e pubblicarli, scoprire e condividere contenuti interessanti e misurare le performance di tutte le attività. O ti affidi all'improvvisazione, oppure ti serve una strategia e magari un buon assistente. PostPeaker è un tool di gestione del piano editoriale, la tua cabina di regia per gestire tutte le attività sui social. Prova PostPeaker e approfitta dello sconto del 30% sull'abbonamento annuale che ti regala Merita Business Podcast usando il codice SC30merita-1. SC30merita-1 PostPeaker, sviluppato su misura per i professionisti e le imprese italiane. Provalo www.postpeaker.com Benvenuti su Merita Business Tool, la rubrica in cui scopriamo uno strumento in grado di semplificare la nostra vita lavorativa. Io sono Giorgio Minguzzi E io sono Giada Centofanti. Continuiamo la serie alla scoperta di strumenti utili con una app per team che devono lavorare insieme su testi scritti. Quindi già da oggi cosa ci fai scoprire di nuovo? Cosa ci consigli questa volta? Allora, oggi vi parlo di Paper, un'app che Dropbox ha annunciato nel 2015, ha lanciato in public beta nel 2016 e finalmente ha rilasciato in versione stabile a gennaio di quest'anno. Wow, e che si tratta? Allora, molti lo definiscono un competitor di Google Docs. In realtà è molto più minimalista, quindi non si presenta come un word processor classico con la barra degli strumenti in alto. Piuttosto, secondo me, è simile all'editor in line delle note di Facebook o di Medium. Quindi praticamente che succede? Che quando noi selezioniamo del testo che abbiamo scritto appare una barra per la formattazione, dove c'è il grassetto, il barrato, i tag di intestazione H1 e H2, gli elenchi puntati e numerati, le caselle da spuntare. In più ci sono i pulsanti per inserire un link oppure per aggiungere un commento. Chiaramente per tutte queste azioni e anche per quelle che nella barra non ci sono, tipo l'intestazione H3 o il corsivo, ci sono le scorciatoie da tastiera. Oltre al testo, utilizzando un bottoncino apposito che è a forma di più, si possono aggiungere immagini, file o link da Dropbox, tabelle, linee divisorie e blocchi per inserire il codice. Oppure si può anche incorporare un video o un audio semplicemente incollando il link. Naturalmente questo funziona con alcuni servizi supportati, tra cui gli immancabili YouTube e SoundCloud. Un po' come avviene in LinkedIn, perché è anche lì poi è facile inserire nell'articolo SoundCloud, ma per esempio Spreaker non lo prende bene, quindi non te lo fa visualizzare. Almeno fino a pochi giorni fa era così. Una cosa che io ho trovato particolarmente interessante e che forse piacerà anche a te è che si può scrivere in Markdown e il testo poi viene visualizzato immediatamente come formattato. Volendo, quando abbiamo finito possiamo scaricare il file proprio con l'estensione .omd, mentre l'altra opzione per il download è il .docx. Quindi, per ricapitolare, secondo me Paper è più simile a un tool per la scrittura senza distrazioni, con diverse opzioni comode anche proprio per chi scrive per il web. E a me, devo dire, questa pulizia, questo spazio bianco, bello, grande, pulito intorno, piace parecchio. Ah, certo. Come sai, io sono un estimatore di writer e mi piace la roba minimalista. Forse però, prima di vedere l'ambito, diciamo, più collaborativo di questa soluzione, perché mi sembra importante anche questo, magari conviene spiegare che cos'è Markdown, perché è vero che a me piace un sacco, però magari non tutti sanno cosa vuol dire scrivere in Markdown. È un markup che si usa praticamente per scrivere con una formattazione, senza dover stare lì, per esempio, a selezionare il testo e dire questo testo me lo metti in grassetto. Per il grassetto, ad esempio, corraggimi se sbaglio, si mettono due asterischi prima e due asterischi dopo la parola. E la parola che è lì in mezzo sarà in grassetto. Per le intestazioni, per esempio, H1 si mette un hashtag all'inizio della frase, che poi sarà l'intestazione H1, H2, due hashtag. Quindi è una roba molto semplificata e molto rapida da scrivere, cioè tu non è che devi scrivere e poi andare a riselezionare tutto quello che devi modificare. Una volta che hai imparato queste opzioni di formattazione, puoi andare molto molto velocemente. Sì, la cosa bella è che tu potresti usare questa tecnica Markdown anche su un foglio di testo, cioè su un TXT, e puoi importartelo in un editor più evoluto. Questo era per spiegarlo perché secondo me è di grande utilità, perché veramente puoi scrivere testi anche quando sei lì che vuoi concentrarti solo su quello che scrivi e non sull'imbellettatura, cioè le virgole, i fioretti, le cose. Ecco, quando vuoi lavorare solo sul testo, il Markdown è fondamentale. Io ti dico, lo uso in un caso specifico sempre, che è quando devo preparare una presentazione, io scrivo il testo di quello che dovrò dire, non faccio mai le slide. Cioè prima preparo, vabbè, prendo le note con mind map, un sistema qualsiasi di quelli tipo mind node eccetera. Dopodiché tutto quello che ho detto, scrivo il testo, cioè scrivo il mio speech e poi alla fine, solo all'ultimo faccio le slide. Però questo testo mi concentro, ho notato che mi concentro molto di più se è privo di arzigogoli. Cioè se io scrivo solo su un foglio note e grazie a Markdown posso scrivere, non so, slide 1, cosa c'è? Slide 2, punto 1, punto 2 e poi lo posso importare, fare, disfare a piacimento. In maniera molto più semplice che non, se io facessi tutto su Word, poi provassi ad importarlo, lui mi importa schifezze eccetera eccetera. Quindi era solo per spiegare questo. Ci puoi ora parlare un po' della parte collaborativa? Perché noi ormai, io e te ci siamo abituati e lavoriamo su Google Docs e ci troviamo abbastanza bene. Però questo strumento può essere interessante. Praticamente la parte di collaborazione è il focus sia di Paper che di Google Docs. Una prima differenza tra le due è che Paper però ti permette di modificare un documento condiviso con te solo se tu fai l'accesso a Dropbox. Quindi devi per forza avere un account Dropbox. Se non accedi puoi visualizzare ma non apportare modifiche. Al contrario, come sapete con Google, possiamo scegliere di farlo modificare un po' a chi ci pare, anche se questa persona poi non ha un account Google. Diciamo che questa mi sembra un po' una costrizione al crearsi l'account, un po' come spesso succede quando ci scambiamo dei documenti e magari noi non siamo logati su Dropbox. Prima di fartelo scaricare ti appare il pop-up che ti dice vuoi creare un account Dropbox? Insomma, diciamo che questa cosa forse se la potrebbero risparmiare. Invece, una cosa che ho trovato utile è che su Paper puoi vedere facilmente quali modifiche hanno fatto gli altri utenti con cui tu hai condiviso il file. Al contrario, con Google Docs è un pochino più macchinoso perché le devi andare a cercare nella cronologia delle revisioni. Sì, è vero. Sì, hai notato? Sì, diciamo che è molto facile accettare le modifiche, ma poi andare a vedere lo storico è più complesso. Sì, sì. Invece su Dropbox praticamente c'è una barra in alto dove tu puoi appunto vedere chi ha fatto le modifiche dove e anche puoi andare a vedere la cronologia delle revisioni. Ci sono sia in Paper che in Google Docs i commenti a margine e sono molto simili in entrambe le app e poi in tutte e due le app puoi menzionare qualcuno in un qualunque punto del documento. Su Paper funziona con una chiocciolina, su Google Docs funziona con il più. Visto che però Paper, per esempio, ha le caselle da spuntare, può essere interessante usare queste mention per creare una lista di compiti e assegnarli a vari utenti. Una cosa che secondo me non è proprio il massimo è che almeno per il momento, e non so quali siano le previsioni future, non si possono caricare documenti da modificare, come siamo abituati a fare con Google Docs. Noi mettiamo una roba nel Drive e poi ce la modifichiamo. Invece su Dropbox tu li puoi creare, li puoi elaborare e poi li puoi scaricare. Certo, puoi fare copia e incolla se proprio ti vuoi modificare un documento lì, ma diciamo che a me è sembrato che sia più per la creazione e la modifica tutta fatta lì internamente e non per la modifica di file che provengono da altre fonti. Quindi dove la possiamo trovare questa app? Allora, si può utilizzare su qualunque computer perché la parte appunto che si usa da PC, da Mac, da quello che vi pare è web-based. E poi ci sono le app per iOS e per Android che ci permettono di usarla naturalmente quando siamo in giro e ci permettono anche di ricevere le eventuali notifiche, appunto se ci sono stati dei commenti, delle menzioni o cose del genere. Beh, è tutto gratis? Gratuita anche questa? E allora dipende, nel senso che Paper fa parte dell'account Dropbox e non è scindibile da esso, quindi se hai un account gratuito è gratuita, altrimenti praticamente è inclusa nel prezzo del tuo piano. Per il momento, e questa cosa è interessante, i documenti di Paper non vengono calcolati nella quota di archiviazione di Dropbox e sempre per il momento non ci sono limitazioni per il numero di file che si possono creare. Però tutto questo un giorno potrebbe cambiare e c'è scritto proprio in un articolo del centro assistenza, cioè adesso e così in futuro questa regola potrebbe cambiare. Vabbè, come un po' i tossici, no? Prima te la do un po' gratis la droga e poi dopo cominci a pagarla. Maledetti, maledetti. Bene, dai, siamo arrivati al termine anche di questa puntata in cui abbiamo parlato di Dropbox Paper. Grazie per essere stati con me e con Giorgio durante la scoperta di questo tool. Se avete voglia di farci una domanda sulla app che vi abbiamo fatto scoprire oggi, oppure se volete lasciare semplicemente un saluto veloce, passateci a trovare su merita.biz. Ovviamente tutti gli appunti e i link citati da Giada li trovate già lì che vi aspettano. E se invece volete darci un feedback sulla puntata di oggi, lasciateci una recensione su iTunes. Bene, è davvero tutto per oggi. Io sono Giorgio Minguzzi. Io sono Giada Centofanti. E questo è Merita Business Podcast. Ciao! Merita Business Podcast. La guida agli strumenti per rendere grande la tua idea d'impresa. Ci trovi su iTunes, Stitcher e Spricher. www.merita.biz. www.merita.biz.com.info www.merita.biz.com.info www.merita.biz.com.info